Sì, però la base non la sento. Ah, stiamo registrando? Ehi, ciao amici, benvenuti. Allora, volevo dirvi che il 31 dicembre alle 19.30 sul mio canale YouTube Efesto 2000 troverete un piccolo concerto, un piccolo, come siamo, concerti corti, una cosa, showcase, showcase. Troverete una showcase che sto registrando in questi giorni per concludere degnamente quest'anno, questo anno che abbiamo passato più o meno distanti. Mi piacerebbe moltissimo avvelermi della collaborazione di tanti amici musicisti, ma purtroppo il periodo è quello che è, quindi ci saranno solo virtualmente, nel senso che mi hanno aiutato a registrare le basi, Ferdinando Piccoli, Daniele Modica e naturalmente Joe Purple. E che dovevo fare? La Landolina, oggi c'è domani chissà. Grazie Peppino, grazie veramente. Quindi niente, vi do appuntamento giorno 31 alle 19.30 su Efesto 2000 per questo simpatico concertino di fine anno. Grazie mille. Fonico! Non si sente la base, mi devi alzare... Ah, non c'è il fonico, lo faccio tutto io in questo cazzo che hanno di merda. Grazie. 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 Grazie.